I reliquari, importantissimi reliquari, tutti in argento lavorato, la scuola napoletana è maestra in questo caso. Qua sicuramente era oro bagnato in oro, le reliquie erano e sono ancora delle preziose perse, tutto a posto, anche qua abbiamo un vestito meraviglioso, la Madonna del Rosario è una statua del 1655, recentemente ci si sono occupati la faccia di una regina, incoronata come una regina, tutti gli effetti in botto lungo. Che presenta il Cristo, presenta il Cristo in palma, in braccio. Il vestito invece del 1759, tutto ricamato in oro, gli stessi disegni che troviamo su questo vestito li troviamo poi nell'architettura monastica, nelle finestre dei monasteri che hanno questa forma settecentesca. Grazie. 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 Grazie.